Abbiamo parlato della mitica riforma che doveva creare i posti di lavoro, il Jobs Act, che di fatto è smantellato. La decontribuzione è sostanzialmente fallita, i contratti a tempo indeterminato sono meno di prima che si facesse quell'iniziativa. I voucher, anche lì bisogna fare marcia indietro. C'è Misiani che l'ha votata quella roba lì che dice che è da rifare. Quindi tutti quelli che avevano votato queste cose, oggi ravvedimento per oso, torniamo indietro. 80 euro, anche qui, mitici 80 euro, che sono conteggiati come spesa, non come detrazione fiscale, caro rondolino. Quindi, sulla parte lavoro, fine. Sulla parte 80 euro, il problema vero degli 80 euro, al di là di questi poveri cristi, un milione e sei che devono darli indietro, anche qui, si poteva fare diversamente e dovevate pensarci. Allora, a parte quello, a parte l'effetto che è stato sostanzialmente nullo, purtroppo, perché non ha spinto i consumi, il problema è come è stato pagato, con una cambiale, le famose clausole di salvaguardia, che sappiamo tutti che non saremo in grado mai di rispettare. Quindi, Renzi che fa? Una scommessa e la perde. Ha fatto una scommessa sulla pelle degli italiani e l'ha persa. Adesso Frida può veramente non aumentare. Faremo una manovra da 40 miliardi a fine anno, perché Renzi ha sbagliato la scommessa. Ma non è vero, la manovra di 40 miliardi, ma dove se l'è sognata la manovra di 40 miliardi? Se posso te la spiego. Vogliamo fare una scommessa, ci rivediamo. Sono 19,6 di clausole di salvaguardia e 18 di cosiddetta flessibilità. Dopodiché hai le robe normali, missioni internazionali, eccetera, senza fare niente, chi mai sarà il governo a settembre, è tutto da vedere, chi ci sarà a settembre, farà una manovra che parte da meno 40 miliardi. Grazie a Renzi, tuo amico.